Non ho voglia di fare lezione oggi, non mi sento tanto bene. Una lezio magistralis la chiamano. Una lezio magistralis dopo una sbornia magistralis. Anche se qui di magistralis ricordo solo il nome della birra che ho bevuto ieri. Se Dio esiste, ha la voce bionda, morbida e piena come quella della birra. Ho iniziato a bere durante gli anni dell'università. Frequentavo il quartiere Schwabing di Monaco. Il quartiere degli artisti, degli scrittori maledetti, dei musicisti squattrinati. Se non avessi fatto il fisico, avrei fatto il comico in uno di quei locali per perdenti. Tipo questo. Dai, entriamo a bere un caffè. Buongiorno Hans! Ma no, quale birra? Un caffè? Non si può bere birra prima mattina. Non si può bere birra tutta la notte. Per questo passo al whisky dopo una certa ora. Facciamo tutti così. Ma come tutti chi? Tutti noi, amanti dell'alcol e delle donne a pagamento. Lo so. Parlo come un alcolista fatto e finito. E infatti questo sono io. ma con un cervello e un premio Nobel in fisica che la gente normale non immagina neanche si possa avere. Forse sto impazzendo. Ma la pazzie è relativa a chi stabilisce la normalità. I pazzi e gli ubriachi sono gli ultimi santi sulla terra. Ma sì, ci ho provato ad andare da uno strizzacervelli, Hans, e da uno bravo, il migliore di tutti, Carl Gustav Jung. Buongiorno. Buongiorno. Grazie.